Una donna senza patente di guida è dal volante di un'automobile sprovvista sia di assicurazione che di revisione è stata fermata da un equipaggio della sezione volanti la scorsa notte durante le attività di controllo sul territorio. La donna, che non ha mai conseguito la patente dagli accertamenti eseguiti dai poliziotti al CED Interforza, è risultato che in passato fosse già stata segnalata perché alla guida di mezzi, sempre senza patente. Una volta fermata è stata denunciata alla Procura della Repubblica e sanzionata amministrativamente. Il mezzo è stato poi sottoposto a sequestro amministrativo. Già durante la settimana gli equipaggi delle volanti a Caltanissette e in provincia hanno sanzionato 37 conducenti per violazioni al codice della strada e sequestrato 4 veicoli.